Buona serata a tutti amici del vostro Juventino Pazzo Si è conclusa la 25esima giornata del campionato di serie A Domani ci sarà la partita a Lazio-Grono Comunque ecco a voi i risultati di oggi Udinese, l'uomo abbatte Udinese 0-2 Chievo batte Cagliari 2-1 Genova batte l'Inter 2-0 Torino batte Juventus 1-0 Benevento batte Crotone 3-2 Bologna batte Sassuolo 2-1 Napoli purtroppo vince 1-0 con la spalla 1-1 tra Fiorentina e Adante Fiorentina E 1-0 il Milan batte la Sampdoria E domani il 2-0 di Lazio-Verona La partita è molto bellissima Questo è stato il risultato della luttavia Questa è una giornata Purtroppo hanno vinto le squadre che mi interessa che volevo che perdevano Come il Milan Volevo che perde Abbi Comunque ci vediamo nel prossimo video con Torino e Juventus Ciao ragazzi Grazie a tutti